Il fondo Greybull McLaren Applied ha versato i primi 5 milioni per il controllo di FIMER. È il primo versamento nell'ambito dell'investimento complessivo da 50 milioni di euro per l'acquisizione definitiva di FIMER. Dopo il Via Libera del Tribunale di Milano, l'operazione dunque di salvataggio del gruppo, che a stabilimenti a Terra Nuova Bracciolini, nella Retino e a Vimercate, Monza-Brianza, si sta concretizzando. L'azienda, che opera nel settore delle rinnovabili, versava da circa due anni in una grave crisi finanziaria. Adesso la svolta. Oggi è l'inizio di un nuovo capitolo tanto atteso per FIMER, si legge in una nota ufficiale del fondo, che ora ha accesso a risorse finanziarie importanti, a un nuovo consiglio di amministrazione e prossimamente a un nuovo azionista industriale. Ringraziamo tutte le parti coinvolte per il loro sostegno nella conclusione di questo cambio di proprietà e rivolgiamo un ringraziamento particolare ai dipendenti di FIMER, che sono stati tenaci nel corso delle turbulenze degli ultimi due anni.